La domanda fatidica che tutti ci fanno e mi fanno in queste ore, ma il coprifuoco è da cancellare. Il coprifuoco è da cancellare. Pensieri e parole di Luca Zaia che annuncia che la zona bianca è ormai un approdo vicino per il Veneto che naviga con parametri epidemiologici ai minimi storici. Risulterebbe devastante spiegare al mondo intero che il coprifuoco resterà fino al 21 di giugno, come previsto dal decreto. E quindi la zona bianca di fatto non porta a casa nessuna utilità dall'essere zona bianca rispetto alle altre zone. La zona bianca rappresenta un ritorno alla vita, ma per parlare di normalità è necessario fare un ulteriore passo e superare i limiti orari imposti dal coprifuoco. Il coprifuoco è diventato purtroppo un totem ideologico. È diventato, come accade spesso nei dibattiti nazionali, soprattutto in questo paese che vive spesso di dibattiti, è diventato il Guelfi contro i Ghibellini. Vorrei ricordare che il virus si avvantaggia solo degli assembramenti, quindi quando noi riusciamo a mettere in contatto più persone. È innegabile che i contatti maggiori avvengano durante le ore diurne, dalle 5 del mattino alle 11 di sera, che è la ora del coprifuoco, dove noi ci assembriamo nei mezzi di trasporto, nei posti di lavoro, nelle scuole, in altri edifici. Pensare che il virus sia più aggressivo dalle mezzanotte alle 5 del mattino mi viene da ridere. Grazie. 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 Grazie.